Ancora una giornata di ricerche ed ancora ore di apprezzione per Bruno Albiani, l'83enne del quale non si hanno più notizie dallo scorso 15 aprile. In azione adesso anche le unità cinofile della Guardia di Finanza. L'allarme era scattato lo scorso sabato alla Chiasa Superiore. L'anziano aveva detto di voler andare a cercare asparagi. Poco dopo avrebbe chiesto aiuto con il cellulare dicendo di essersi perso poi più nulla. In mediata l'attivazione dei soccorsi, i vigili del fuoco del comando di Arezzo nei pressi della Chiesa della Chiasa hanno attivato il posto di comando avanzato per il coordinamento delle operazioni. Nelle ricerche è stato impiegato anche l'elicottero Drago. Sul posto polizia, carabinieri ed associazioni di volontariato che hanno setacciato palmo a palmo le aree boschive limitrofe alla frazione sino ad arrivare al chiaveretto. Ricerche purtroppo ancora senza esito. 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 Ricerche purtroppo ancora senza esito.